Personaggi e interpreti Don Annibale Pistacchio, speziale, Egno Silvestri Serafina e sua moglie, Maria Rosa Suban Madama Rosa, madre di Serafina e zia di Enrico Editta Danieli Enrico, giovane e bontempone, Claudio Giombi Spiridione, servo di Don Annibale, Lorenzo Conti Orchestra e coro del Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste Direttore Luigi Toffolo Maestro del coro Mario Bugamelli Regia di Marta Lantieri Registrazione effettuata dall'Auditorium di Via del Teatro Romano di Trieste Il 5 giugno 1965 Durante il saggio di studio del Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste Regia di Marta Lantieri 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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